Ciao a tutti ragazzi, qui è Bluelight e benvenuti oggi in questo nuovo video oggi sono qui in questo nuovo episodio di Minecraft Vanilla allora ragazzi, come vedete già dall'entrata sono cambiate un po' di cose allora, ho spostato i dischi in questa cesto insieme al jukebox uno da una parte, uno dall'altra ok, no, il volume sta apposto poi, come vedete, ho aggiunto la scala anche da quest'altra parte e anche qua sotto quindi per salire adesso ho sia una scala da una parte sia dall'altra e così anche per scendere di qua una cosa un po' più carina perché stava solo da un lato, invece così è molto 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 epica quindi, gg no? cioè, a me non mi piace molto, certo, ci sarà per un po' di tempo forse continuerò a salire da qua e scendere da qua perché sono abituato così però forse mi trovo meglio perché sta a destra boh, vedremo ora, andiamo un attimo dai nostri villager perché vi devo far vedere che stanno funzionando stanno funzionando e, a dirla tutta è spawnato anche un Iron Golem soltanto che questa cosa non va bene ce ne sta un altro non va bene perché ho paura che va a disturbare la farm di Iron quindi cosa avevo fatto? ho tolto le porte agli angoli allora, prima potevano spawnare erano 14 villager potevano spawnare perché erano 44 porte 30, sì 13 sì, sì, sì 14 villager potevano spawnare mentre adesso ne ho uccisi un po' e ho tolto le porte quindi 2, 4, 6, 8 quindi sono 36 porte adesso quindi ne possono spawnare 12 quindi pensavo che con 12 non spawnavo un golem e invece mi sbagliavo allora, vediamo un attimo contiamoli 3, 8 11 3, 6, 9 sì, sono 12 3, 6, 9 12 no, sono 13 i bastardi sono 13 quindi ne devo ammazzare un altro e adesso dovrei anche ammazzare l'Iron Golem che però stavolta è spawnato dentro perché prima era spawnato fuori e i zombie l'hanno ucciso perché c'erano tutti i zombie e adesso l'Iron Golem naturalmente attaccherà a me però adesso tu mi salti qua mi fai saltare tutte le carote perché? perché? perché esisti? mannaggia a te non capisco quando muori madonna, mannaggia però perché? perché di spawnare? ok ora però devo entrare in qualche modo entrare in qualche modo e come vedete ho anche tolto il chierico il villager chierico che stava sopra loro perché? dopo che ho visto che mettendo le porte loro facevano si riproducevano ho pensato bene di togliere il chierico che adesso sta sotto con loro che in teoria è questo si è questo qua quindi c'ho altri due chierici dei Librarian grazie per le carote dei Librarian poi c'ho un farmer un fletcher quelli che c'erano all'inizio e poi altri tutti gli altri c'ho Toursmith o Armorer 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 ne ho uccisi due perché erano tutti tutti Toursmith e Armorer quindi vabbè sono stati uccisi ora devo fare una cosa abbastanza veloce perfetto ora prima di fare la cosa principale di questo episodio andiamo a fare una cosa molto molto carina andare a mettere non posso mettere dei vasi qua ma come no come non posso mettere no non mi dire no ci sono rimasto malissimo perché lo volevo fare posso mettere qua no quasi su là no vabbè ero tutto programmato che lo volevo mettere qua sulle fornaci sulle fornaci eh e guardate un po' non posso mettere nemmeno il cac no ok guardate che bello il cactus il cactus nel vaso cioè quanto epico dieta più piccolo che figata è una figata immensa però lo volevo mettere qua sulla glowstone non va bene vabbè ora vediamo se lo lasciamo qua o no a me piace scrivetemi nei commenti se vi piace a voi a me piace è caruccio però forse sbatte qua non lo so andiamo un attimo in creative eccoci qui ragazzi in creative adesso ho lo sguardo abbassato perché non vi voglio far vedere la cosa però tanto adesso ve la devo far vedere perché se no la devo fare nel mio mondo e quindi c'è vabbè dai ve la faccio vedere ecco qui lo switch con gli armor stand allora cosa è questo meccanismo allora in pratica io andando su questa iron pressure paint faccio switchare quindi cambiare i due armor stand che come vedete uno è con l'armatura di diamante e uno con l'armatura d'oro armor stand che sono stati aggiunti nella 1.8 come i slime block che vedete qua sotto e questo è uno switch molto carino che ho visto fare da docking 77 docking 77 che però l'ha fatto con i villager però perché appunto perché voleva fare appunto i trade no con diversi villager però io l'ho preso e l'ho fatto con gli armor stand allora cosa succede allora quando io vado a spingere ad esempio questo pulsante come vedete un armor stand va sopra e uno va sotto quindi appena io spingo il pulsante questo lo slime block viene tirato via scende l'armatura stand che sta sopra e sale quell'altro poi qui come vedete c'è l'ossidiana perché l'ossidiana è un blocco che lo slime block non porta via con sé perché se io adesso qua mettevo con qualsiasi altro blocco lo slime block scendendo si sarebbe portato con sé anche il blocco vicino mentre ossidiana e fornaci non vengono presi dallo slime block e quindi se io faccio così come vedete lo slime block funziona normalmente e fa salire l'altro l'altro armor stand e fa poi vabbè appoggiare questo qua però l'ossidiana non viene portata con lo slime block poi un'altra cosa è che qui ho messo il vetro ho messo il vetro perché era per far vedere come funzionava con le armature e però se io faccio questa cosa allora facciamo così togliamo il vetro e facciamo questo come vedete l'armor stand viene buttato via e questa è una cosa molto molto epica adesso vabbè non fa niente che se ne si è tolto da qua perché tanto al massimo lo rimetto facciamo così facciamo scendere questo facciamo armor e ne prendiamo un altro e lo mettiamo e così poi ops sono caduto così poi lo switch funziona lo stesso perfetto questo invece è il timing per della reston con due tick e tre tick da quest'altra parte del reston repeater quindi se lo volete rifare questo è tutto il meccanismo tutto questo ok ora andiamo nel mio mondo ok ragazzi eccomi tornato nel mondo adesso andiamo a fare gli armor stand perché come vedete il circuito è già pronto già tutto fatto quindi andiamo a prendere i stone slab di sotto e gli stick nella cesto quindi prima i stone slab ne prendiamo vabbè non ho preso 5 ma ne servivano 4 e poi andiamo a prendere gli stick perfetto quindi mettiamo gli stick qua facciamo così facciamo così perfetto e andiamo a fare uno due tre e quattro armor stand allora poi andiamo a fare anche una pressure plate di iron la pressure plate di iron che andiamo a posizionare davanti lo slime block quindi mettiamo il l'arma stand con la pressure plate lo facciamo scendere andiamo a mettere pure l'altro ok perfetto ecco qui il nostro bellissimo sistema ora dato che c'è questo ossidiano un po' random andiamo anche a mettere un altro livello di stone brick un altro muro per coprire un po' l'ossidiano e poi anche il circuito qua sotto quindi andiamo a fare così perché adesso in un altro modo andiamo a sistemare questa stanza ok ora mettiamo anche degli armor stand qui e qui perché appunto io volevo mettere diverse armature oltre a quella in diamante e in oro questa qui che ho nella chest nell'ender chest quindi prendiamo questa però invece di prendere questo elmetto andiamo a prendere l'elmetto blu lightoso perché l'elmetto blu lightoso è molto importante per questa serie molto molto importante e andiamo a prendere questa armatura qua questa qua di iron perché questa è quella che mi porta a prezzo e quindi è meglio se me la tengo ora andiamo quindi a mettere quella di diamante e poi andiamo a mettere dopo quella di oro quindi petto elmetto pantaloni stivaletti poi switch andiamo a mettere quest'altra elmetto petto pantaloni e stivaletti ecco qui la nostra le nostre due armature ora questa parte e quest'altra parte invece ci andiamo a mettere quella di chain che però non ho completa e in teoria anche quella di iron però per adesso non le facciamo perché quella di chain in teoria dovrei avere qualche pezzo nello spawn di scheletri quindi per non scendere fino laggiù per adesso lasciamo così e andiamo allora a decorare la nostra stanza come come andiamo a decorare la nostra stanza andiamo a prendere allora qua c'ho quello che mi serve no no allora andiamo a prendere la lana e la lana ne prendiamo un bel poco vedete c'è un 80 di lana perché con la farm di animali sotto ne prendo molta molta lana la i red tulip lo fanno rosso perfetto se no ci abbiamo no vabbè ci abbiamo i poppi ci abbiamo una cifra di poppi prendiamo questi prendiamo questi ci abbiamo una cifra di poppi ora i carpet si facevano così perfetto e quindi andiamo a fare prima i carpet andiamo a fare un bel po' così sono 57 e poi aspettavo prima facciamo il colorante e poi che è tutto intorno no com'era per colorare per colorare ah no idiota devo fare prima la lana rossa e poi i carpet perfetto perfetto ok prima lana rossa e poi i carpet non l'ho mai quasi oh che cacchio non l'ho quasi mai fatti i carpet quindi vabbè abbiamo 50 carpet bianchi lo so e non proprio non me lo ricordavo vabbè 48 48 dovrebbero abbassare noi prendiamo altra lana e voilà ora partendo partendo da qua andiamo a fare un bel tappeto rosso bel tappeto rosso e poi in alcune parti voilà ok in alcune parti poi nascondiamo anche qualche luce tipo qua mettiamo una glowstone qua mettiamo una glowstone e anche di qua dato che qua ci stanno le due torce e in teoria dovrebbe rimanere tutto illuminato ora vediamo subito andiamo a prendere appunto le glowstone allora vediamo qua e di qua perfetto vabbè è illuminato forse facciamo così tanto dove non si vedono perché ci stanno appunto i carpet facciamo anche qua perché magari è meglio perfetto sì facciamo anche qua no vabbè qua sta il centro vero sì quindi qua non serve ok perfetto carpet messi anche il muro è un po' più decente si vede solo col pezzo di ossidiano là dietro però va bene allora facciamo una cosa faccio un piccolo taglio così vi faccio vedere tutte le armature messe sugli armostand quindi ci vediamo tra poco ok ragazzi mi è andata abbastanza di fortuna perché come vedete ho elmetto pantaloni chestplate e stivaletti allora cosa è successo nello spawn di scheletri avevo due chestplate incantate allora dato che non mi interessa molto degli incantesimi degli incianti che ci sono sopra il corpo e dato che io lo volevo normale l'armatura li ho uniti e quindi è arrivata fuori una normale così ho fatto per gli stivaletti ora però c'è questo è il metto incantato quindi noi andremo a fare la stessa cosa che ho fatto prima quindi prendiamo quello normale così possiamo mettere la chain l'armatura di chain sul nostro armostand di sinistra la chain è un po' brutta perché come vedete fa vedere l'armor stand dietro però è comunque molto molto bella come armatura mentre dall'altra parte andiamo a fare la nostra armatura di ferro allora 35 pezzi non so se mi bastano però noi lo facciamo lo stesso andiamo a fare corpo e stivaletti e poi pantaloni e del metto ok con 11 pezzi di avanzo qua di ferro non c'ho proprio niente no armatura di ferro dopo che ho fatto quello in diamante non mi sa che non l'ho mai no mai più usata no però vabbè buono oh ecco qua la nostra nuova stanza la stanza degli armor stand epici devo dire sono molto epici forse sembra un po' vuoto tipo qua e qua o qua e qua qua e qua potrei mettere altri armor stand perché devo dire che è un po' vuoto mmm interessante ora 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 un'altra cosa che hanno aggiunto nella 1.8 sono i banner allora i banner li andiamo a fare con gli stick che già ho e con la lana allora con la lana con la lana ne prendiamo un po' perfetto allora io ho visto che ci sono molti molti banner molti molti diversi tipi di banner quindi diversi colori però noi adesso andiamo a fare allora prima vabbè facciamo banner normale facciamo uno e come vedete adesso prendiamo dei coloranti quindi prendiamo i coccoa che mi servono poi mi servono mi servono mi servono mi servono allora i cactus 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 ah no aspettate aspettate i coloranti ce l'ho pure di qua eccoli qua prendiamo i cactus prendiamo pure il blu e prendiamo pure il rosso così allora vi faccio vedere facciamo un po' di prove io ne voglio fare uno specifico però intanto ne faccio vedere pure qualcun altro ok facciamo questi tre e vediamo un po' allora se io metto questo qua e prendo il il cyan il cyan come vedete quello fa una striscia blu di lato e poi noi facciamo una cosa andiamo a prendere il nero il nero il nero dove ho yingshack dove ho yingshack perfetto andiamo a fare questa cosa e andiamo a fare una cosa nera blu e bianca e al centro ci mettiamo mmm al centro ci mettiamo boh il rosso così il rosso al centro si mette in questo modo perfetto ah qui abbiamo fatto un bel banner questo è proprio un random un bel banner random che poi per chi non lo sapesse questo caro banner che non si vuole rompere oh ok lo possiamo mettere anche così all'angolo così girato e questa è una cosa molto molto epica così lo facciamo mettere anche su tutti gli angoli quindi è una cosa molto molto figa soltanto che quello che io voglio andare a fare adesso questo ce lo lasciamo qua per ricordo oh what the fuck ok così per ricordo poi lo toglierò però io che cosa volevo fare allora girando un po' sul web su online su internet come cacchio mi pare a voi ho trovato il banner del villager della faccia del villager allora bisogna fare allora il banner poi bisogna mettere il verde in questo modo per fare questo rombo verde questo rombo verde poi in teoria i lati del rombo vanno a fare gli occhi del villager quindi noi adesso lo mettiamo sopra qua sopra e andiamo a mettere i cocoa beans cocoa beans questo modo in questo modo no in questo modo wait a second se faccio così la stessa cosa no ok si in questo modo poi adesso noi in teoria stiamo facendo il contorno della faccia e andiamo anche a fare il naso allora il naso io ho provato diversi colori allora io ho provato con il rosa però non mi piaceva il rosso non mi piace allora stiamo usiamo l'arancione usiamo l'arancione che è meglio quindi giallo rosso e poi mettiamo lui così ok perfetto se riuscite a vedere adesso il rombo verde che c'era prima adesso sono diventati un occhio adesso è un occhio a sinistra adesso ci servono di nuovo i cocoa beans ci servono per fare tutto intorno sta venendo già la faccia di un villager più o meno e adesso però ci servono gli inksak ci servono gli inksak ci servono gli inksak servono tre e così andiamo a fare la parte superiore ok ecco qui sta uscendo fuori il nostro villager perfetto che poi con altri cocoa beans verrà colorato tutto questo però cioè aspettate un attimo aspettate un attimo questo è molto più epico perché sembra tipo una caricatura del del villager certo non è non sembra però un po' si dai ed è molto epico vabbè però è meglio quando è finito completamente così così è molto più bello così così è proprio lui adesso ne faccio un altro perché così lo andiamo a mettere no aspettate ne facciamo uno e vediamo un po' di andarlo a mettere vicino ai villager andiamo a metterlo vicino ai villager non ti puoi bugare così ok allora lo devo mettere da sopra oh allora si dai ne metto un altro pure qui all'altro angolo andiamo a farlo subito ora si che è molto meglio con questi due bellissimi villager che ci guardano così quando arriviamo manzo davvero davvero molto epici perché se io faccio così no wow no vabbè mille cose in mente da fare ho trovato una cosa troppo epica ok ragazzi quindi se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un mi piace di commentare e se non avete ancora fatto iscrivervi al canale la pagina facebook è in descrizione e anche il sito web quindi ciao a tutti da blu like